Io sono Ennio Rubino, il presidente di Stress. Stress è una società consortile mista pubblico-privata che si occupa di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione professionale nel settore dell'ambiente costruito. La partnership è fatta da imprese piccole, medie e grandi della filiera e una serie di operatori scientifici tecnologici. Il nostro obiettivo è fare una serie di progetti di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale e dare evidenza sul territorio di applicazioni tecnologiche sull'ambiente costruito tramite degli esempi campione, dei dimostratori tecnologici come noi li chiamiamo dove mettiamo a frutto le attività svolte nei vari progetti di ricerca. Come vedete alle mie spalle i temi chiavi sono sostenibilità, resilienza, smart city e qualità della vita perché ovviamente l'ambiente costruito è il primo bene sul quale si può misurare la qualità della vita dei cittadini. Come vedete alle mie spalle! Grazie!